bravo ma si fa con una persona una tecnica nasce questa idea di competenza sportiva quindi Aikido in reale più persone attacca quindi chiaramente devi fare più tecnica quindi maestro Dohei cominciato questa Tsukiwada è tecnica differente ma il problema è che in realtà in mondo reale questa scelta della tecnica dipende dalla situazione libera ma si dice libera allora è difficile praticare e quindi per facilitare facilità di praticare maestro Dohei fatto cacatadori, someni, quindi questa è solo scelta facciamo fare tante Tsukiwada differenti non ha una sola tecnica una sola Tsukiwada può fare tante variazioni non è importante che tutta questa Tsukiwada deve sviluppare vostra tecnica e vostra abilità di vivere in vita reale e questo è solo il scopo di Tsukiwada quindi anche questa Pokken che c'è 20-30 tecnica ma difficile mettere 20-30 tecnica in Tsukiwada quindi bisogna scegliere allora come scegliere? Questa chiama matematica no? C'è tante cose che bisogna analizzare matematicamente questo si fa questo e questo naturalmente sviluppa l'abilità per fare questo quindi questa mettiamo via a fare questo e questo è questo che bisogna analizzare matematica e questo è essenziale se non saperemo questo altra così amore facciamo fare questo è questo questo è questo come sviluppare e sviluppare sui sviluppare sui sviluppare e sui sviluppare potente quindi c'è tanta altra tecnica che esiste ma questa tecnica si pratica questa sui sviluppare e voi sviluppare abilità di fare questa altra tecnica quindi questo è questo come sviluppare e vi arrivate qui io faccio quanto faccio io hanno possibilità di contrarattacare e ma per praticare le poi io hai toccato è a controllo attacche per��, possiamo revisionare le passi più volte ma per hai avanti si capisce questo io posso fare le passi passi si capisce questo io posso fare le passi possibili questo è proprio un'importer quindi questa è il'angliata,il'angliata non è importante che il'angliata è una palestra il'angliata,il'angliata,il'angliata,il'angliata Questo è uguale. Allora, con tutti i passaggi, questo materiale è possibile fare così, poi anche così è possibile questa tecnica è existente. Ma non può mettere tutta tecnica quindi facciamo solo questa tecnica. Quindi qui primo cosi lui è secondo ora per fare secondo questa matematica Allora Questa è da Ma non è Non è Pagliare Questa è Questa è Ha Questa è Una Lui Rui Rui Lui Lui Rui ora io continuo